Sabato 7 marzo, stavo leggendo con un po' di ritardo i giornali di questa giornata, ovviamente tutta tesa a spiegare che cos'è il coronavirus e questa epidemia che sta sconvolgendo le nostre vite e si sta creando molta ansia. I ristoranti sono mezzi vuoti, gli alberghi sono vuoti, le zone turistiche sono compromesse nella stagione. Apro Corriere della Sera e trovo comunque una pubblicità secondo me sconveniente se non allucinante. Che cosa fa il comune di Bormio e quello di Livigno, comunque le loro attività promozionali per rassicurare la gente? Fa uno sconveniente e secondo me inutile da perplessità pagina completa giocando sulla malattia. Quindi vivi la montagna a pieni polmoni e voi sapete che i polmoni ammalati è uno dei sintomi del coronavirus. Poi ancora peggio qua sotto c'è una zona bianca, a differenza con la zona rossa, dove star bene è concagioso. Ecco bene, trovo questa pubblicità di Bormio e Livigno veramente sconveniente. Alla prossima!